E' difficile trovare una rivale diretta della Citroën. Le sue forme da familiare filante e da multispazio coupé la rendono difficile da classificare. Eppure una vettura premium da 4,52 metri rifinita lussuosamente è in grado di trasportare 5 persone in comodità con relativi bagagli disposti nel vano che va da 325 a 1145 litri. Gli interni rivestiti in pelle e seta propongono una grande console sul cielo, un tocco aeronautico per ospitare i pulsanti d'apertura del tetto panoramico a tre finestre. Di serie è il sistema di chiamata d'emergenza Citroën e-Touch, mentre in opzione è disponibile il Color Head-Up Display. Come motori la DS5 propone il 1.6 THP, il 1.6 E-HDI e il 2.0 HDI. Grazie per la visione!